Salve ragazzi, allora stavo guardando la partita del Milan iniziava prima 1-0, 2-0, poi 2-1, poi 3-1 ho detto vabbè, mancavano 5 minuti alla fine della partita ho detto vabbè mo, devo fare una cosa, devo uscire un attimo per una cosa dico tanto ormai è finita, dico tanto che cazzo sono sceso, sono tornato su, mancava un minuto un minuto e mezzo al tempo del recupero 3-3, dico che cazzo è successo, che cazzo hanno fatto questo infatti i cose della Salernitana non l'ho visti ho detto guarda la mano, 3-3, ma come? loro ci hanno preso per culo a noi che abbiamo parciato in casa con la Salernitana che è retrocessa, una squadra retrocessa, guarda e là e poi loro, addirittura l'ultima decampionato dove magari dovevano fare un po' più bella figura con il pubblico come i tifosi loro, che cazzo ti dannaggia la miseria cioè veramente che vergogna, che vergogna mamma mia, cioè veramente è una cosa incredibile l'altro giorno stavo sentendo a Dani stavo sentendo a Dani che diceva un po' di cose su Pioli con Cassano e dicevano che Pioli era un grande allenatore ma quale grande allenatore, ma io dico veramente ma come cazzo, ma come vengono giudicati certi allenatori da certi personaggi ha fatto pure troppo con una squadra di qua, con una squadra di là ma come cazzo fate a di una cosa del genere porco Dio, me fai incazzare mannaggia, non me lo metti cazzo di cazzo mi fai il telefono 1550 euro, porco Dio ti spacco la faccia, ti spacco ah, cito vabbè comunque stavo guarda stavo guarda fammi vedere se si è crepato il vetro perché questo veramente aspetta un secondo perché qui no, non ti apposto non ti sento che è successo non fannaggia la puttana il spacco la faccia il spacco in poche parole che è successo eh, succede che ancora fuori dalle coglioni e insomma, come si dice hanno preso per il culo a noi del qua e del là che noi abbiamo paricciato con la squadra di retrocesa e loro cioè, veramente cioè, ma quando cazzo lo cacciate via a sto allenatore ma quando lo cacciate via e dicevo che Cassano e Adani dico, ma come cazzo invalutano sti allenatori ma come cazzo fate? cioè, ma non lo vedi la squadra pure come gioca male è una squadra che non gioca giusto tutto come ho detto tutto su Leao oggi Leao il primo tempo sembrava che, non so oggi sarà scatenato cioè, un bel Leao si era visto come ma Leao fa una partita buona è cinque da merda è un giocatore un po' così cioè come cazzo giudichi l'allenatore tu? come fanno questi a giudicare un allenatore guardando perché è arrivato diciamo che abbiamo fatto un po' schifo tutti quanti e i pagliacci hanno preso il largo perché sono stati anche molto aiutati ma però non è una squadra che gioca che fa un calcio un ottimo calcio cioè, fa un po' schifo sto Mila parlavo se è chiaro cioè, come cazzo si fa? qui cioè, in Italia come ho detto bisogna prendere allenatori propositivi gente capito che che c'ha la cazzimma come si dice ho visto le due sostituzioni la sostituzione di Giroud mi sono visto quando ho visto la sostituzione di Giroud ho detto dico, vabbè ma fanno due minuti e poi dopo torno a fare questa cosa di quanto 3 a 1 ormai è andata sto cazzo ritorno guardo 3 a 3 minchia e ci hanno perculato a non finire a noi ma comunque va bene ragazzi campionato finito poi domani ci stanno l'artre in caso non so se farò qualche video su qualche altra squadra non lo so comunque veramente guarda ma adesso c'è solamente da aspettare come ho detto la finale del Champions perché si la conference cioè che cazzo di coppetta da merda c'è da aspettare l'europeo ecco quello magari ci divertiremo un po' con l'europeo questo è quello che speriamo da guardare un bello europeo speriamo che l'Italia faccia qualcosa ma non ci credo tanto perché l'Italia non è che ci ha soggetti veramente come si dice cazzuti per poter fare quello che è successo cioè i miracoli succedono una volta ogni morta di papa cioè non è che si possono ripeti i miracoli giusto ecco comunque cari diavoletti mamma mia che figura del merda almeno l'ultima in casato doveva di vincere cioè veramente che vergogna che vergogna mamma mia grazie a tutti